Ecco, incominciamo questo video dei ristoranti che si trovano su lungomare in zona centrale con la pagaglia che è questo ristorante che si trova sulla panchina e la pagina la pagina di Pioca e la pagina di Pioca ecco qui in zona porto siamo molto vicini al famoso Uliassi questo è l'esterno ecco qui vicino a Uliassi abbiamo scalo zero ecco qui siamo di fronte al ciringuito che è un beach caffè ecco siamo arrivati di fronte alla tartana ecco qui di fronte abbiamo il MoMA che si trova proprio vicino al baretto rosso ed ora qui di fronte alla terrazza Marconi abbiamo l'angolino sul mare ecco qui il bar della terrazza Marconi si trova proprio vicino alla rotonda il pretty pink bar gelateria ecco siamo alla risacca che vediamo qui di fronte e da quest'altra parte abbiamo lo Yamaha ecco qui siamo di fronte al city con il ristorante Monzu e di fronte alla pizzeria Levante ecco siamo arrivati a cubetti di sabbia ecco qui di fronte notiamo l'insegna del pesce azzurro il locale self service è molto frequentato per il basso costo eccoci arrivati a Maremi ecco terminiamo ora questa serie di ristorante con il mascalzone si trova proprio qui e anche dei tavoli verso la spiaggia eccoci arrivati a Maremi